Sono stati grandi amici alleati, due simboli di un centro-destra vincente di cui si sono perse le tracce. L'imprenditore premier e l'imprenditore sindaco, due protagonisti della scena politica dell'ultimo ventennio che oggi sono distanti anni luce. Volano gli stracci tra Gabriele Albertini e Silvio Berlusconi. L'accordo Lega PDL in vista delle elezioni politiche e regionali non è proprio andato giù all'ex sindaco di Milano che sperava ancora in una marcia indietro del Cavaliere. Oggi nel corso della trasmissione Coffee Break sulla 7 Albertini ha attaccato così a testa bassa l'ex presidente del Consiglio che lo spinse quasi vent'anni fa a lasciare l'impresa e correre per Palazzo Marino. Va bene l'accordo però tu sei impresentabile ai nostri elettori per cui mettiti da parte. L'ego di Berlusconi che accetta un'umiliazione del genere resa pubblica è incomiabile, devo dire per fare questo accordo ha sacrificato molto della sua dignità. Insomma è una rottura definitiva quella tra Albertini e il PDL che negli ultimi giorni ha fatto terra bruciata attorno all'ex sindaco. Nelle prossime ore sarà certificato con ogni probabilità anche l'abbandono di Roberto Formigoni alla candidatura di Albertini in regione. Il suo maggior sostenitore fino ad oggi che ora con una marcia indietro piuttosto disinvolta sembra sempre più allettato dalla proposta di Berlusconi di un seggio in Parlamento per lui e per alcuni tra i suoi fedelissimi in cambio del sostegno al leghista Maroni. In ogni caso noi con molti o con pochi compagni faremo quello che è giusto fare indipendentemente da chi c'era prima e non c'è più. Ne troveremo altri di elettori che magari riconosceranno la nostra coerenza e puniranno l'ondivo atteggiamento.